Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall'UTC per i lavori di ampliamento con adeguamento sismico, adeguamento funzionale, efficientamento energetico ed impiantistico, opere di adeguamento antincendio e sistemazione dell'edificio scolastico Aldomoro nel comune di Trentinara, gli interventi avranno un costo pari a 800.000 euro circa, infatti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dei Bene e delle Attività Culturali e del Turismo, sono stati definiti i contenuti della progettazione in tre livelli progettuali. A tal proposito sono stati anche acquisiti i pareri favorevoli, espressi dal responsabile del servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità alla correttezza dell'azione amministrativa, nonché in ordine alla regolarità contabile, poiché l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente. Toccherà poi alla Giunta Comunale, con successiva deliberazione, approvare il progetto esecutivo dei lavori in questione.